Scusa, facciamo la nostra mossa. Mi serve la password di Holt. La sua pass? E quale, scusa? Non importa, gli americani usano la stessa password per tutto. E che ci devi fare? Voglio farlo diventare matto. Ho scoperto che la mano di Broca vuole uccidere Chanel almeno quanto lo voglio io e perde il controllo della mano quando è stressato. Già. A proposito, penso che mentirei se dicessi che non mi sento in colpa perché uccido le persone. Non stiamo parlando di uccidere le persone. Stiamo parlando di uccidere Chanel, la puttana che ha bruciato la faccia a mia sorella. Perciò se mi stai chiedendo se penso che meriti di morire, la risposta è sì, merita di morire. Dammi la password. Beh, una volta effettivamente l'ho visto accedere alla sua email. La sua password è I went to Harvard? Sì, tutto maiuscolo. Eccellente. Quando Chanel sarà morta, sistemeremo le altre Chanel una a una, a cominciare da quella troietta di numero tre. Quelle cuffiette sono atroci. Non fa nemmeno freddo fuori. Non voglio uccidere Chanel numero tre. Oh sì, lo farai. Ti denuncio se non lo fai e sarà l'ultima faccia che vedrai quando friggerai sulla sedia elettrica. Questa è una promessa solente. Perciò.